Fra il 1947 e il 1969, l'aeronautica militare statunitense, detta anche USAF, condusse uno studio sull'avvistamento di oggetti volanti non identificati per capire se gli UFO fossero una minaccia per la sicurezza nazionale. Il progetto venne chiamato Blue Book. Si indagò su ben 12.618 casi e solo 701 di questi rimasero come non identificati. Fra le persone più note che lavorarono a questo progetto ci fu l'astrofisico Joseph Allen Hynek, famoso anche per la creazione della classificazione degli incontri ravvicinati, dal primo al settimo tipo. Alla fine dell'indagine, l'aeronautica concluse che non vi era nessuna prova concreta sull'esistenza di oggetti volanti extraterrestri e quindi questi avvistamenti non erano certamente una minaccia per la sicurezza nazionale. Nonostante questo, Hynek criticò i risultati, dal momento che secondo lui il personale non era adeguatamente preparato e conduceva indagini con indifferenza e fretta. Il rapporto Condon concluse che gli avvistamenti UFO erano frutto di lieve isteria di massa, individui psicopatologici, bugiardi in cerca di pubblicità ed errore di identificazione di normali oggetti. Diversi anni fa i casi vennero pubblicati online in modo che potessero essere studiati da tutti. Quelli che state vedendo sono alcuni di questi casi. Una parte di persone che crede alla teoria del complotto pensa che i casi siano stati studiati con il preciso scopo di smontare qualsiasi ipotesi extraterrestre per nascondere la verità, ovvero che il governo degli Stati Uniti è in possesso di prove schiaccianti e che, addirittura, stia collaborando con gli alieni stessi. Il problema sta proprio nell'analisi dei casi stessi. Se prendiamo un caso e lo facciamo analizzare ad uno scettico e ad uno che crede che gli alieni centrino in tutti i casi, entrambi saranno in grado di fornire una spiegazione. Come disse Hynek stesso, sarà sempre possibile trovare una spiegazione naturale anche se del tutto improbabile qualora si operi soltanto nell'ipotesi che tutti i rapporti UFO si devono soltanto a causa del tutto note e accertate. Questa cosa è valida per lo scettico, ma anche per chi è convinto che ogni caso sia invece reale. C'è però da dire una cosa, e l'ho detta spesso quando ho parlato di alieni. Su innumerevoli casi ne basta anche solo uno, solo uno vero, per mettere a tacere l'intera comunità di coloro che non credono agli extraterrestri. Ovviamente per loro non esistono casi veri e cercheranno sempre la spiegazione più razionale possibile per spiegare qualcosa di assurdo. Spesso ci sono dei casi in cui la spiegazione, presumibilmente logica, è più fantasiosa e assurda della verità stessa.